ciao a tutti amici benvenuti al mio canale io sono moira e oggi siamo su the sims 4 ringrazio angela samuele carla e katia per queste fan art grazie mille allora oggi non siamo da sarah e stefano perché non è ancora giunto il momento del parto quindi in questo episodio direi di concentrarci su alessia e riccardo e la loro ricerca di un fidanzato fidanzata visto che comunque io li ho già creati e li ho già anche collocati nel quartiere quindi se riusciamo in questo episodio vorrei far conoscere ad alessia e riccardo i loro futuri fidanzati si tratta di un fratello di una sorella ma non so non mi convincono tanto hanno un aspetto un po strano e anche i loro nomi come dire sembrano dei nomi stranieri non so comunque adesso stanno dormendo tutti quindi aspettiamo che si sveglino e poi andiamo alla ricerca di questi fidanzatini lei ha fame si è svegliata magari potresti anche preparare la colazione cucina tacos di pesce vabbè che sono le quattro di mattina però visto che non ha più sonno benissimo loro invece lui deve andare in bagno assolutamente e anche lei ha fame aspettate però lei va a scuola giusto il giovedì sì lei va a scuola lui è a casa lei va a lavoro forse riusciamo ad avere anche una promozione però non abbiamo iniziato le interazioni amichevoli allora sapete cosa io farei prendere un giorno di vacanza ad alessia ecco esatto prenditi un giorno di vacanza dalla scuola e poi con marina facciamo le interazioni amichevoli no non abbraccia perché è seduta e sta mangiando quindi conversazione profonda ok appena iniziato complimentati per l'abito 75 ancora un paio e forse ci siamo ok completato benissimo quindi secondo me oggi marina riceverà una promozione lui invece no non è che sia andato proprio benissimo con il suo lavoro sai cosa devi studiare gli avversari quindi internet studia gli avversari lei si è presa il giorno di vacanza aspettate non sono sicura che si sia presa il giorno di vacanza sì mi sa invece di sì perché non c'è più l'interazione benissimo magari ripulisci tutto questo lo puoi riporre a che ora va a lavoro lei? alle 10 va bene dai io direi allora che possiamo andare con Alessia alla ricerca del suo futuro fidanzato io proverai ad andare al parco prima magari riusciamo ad incontrarlo lì quindi viaggia altrimenti se non lo incontriamo in giro per il quartiere andiamo direttamente a casa sua tanto so dove abita visto che l'ho creato io però vorrei provare prima al parco che cosa? oh mio dio ok è un segno del destino perché è lui è lui com'è possibile? l'abbiamo già trovato stanno già parlando wow non si conoscevano davvero non si conoscevano non li ho mai fatti incontrare li ho solo creati infatti non si sono mai coincontrati e stanno già parlando ok è un segno del destino vuol dire che sono fatti l'uno per l'altra comunque vi presento il futuro fidanzato di Alessia come potete vedere è un po' particolare anche il nome Cod o Neila non so è un po' particolare sembra quasi straniero comunque direi di iniziare subito a socializzare è già flertante ma come? abbiamo appena iniziato è già flertante ma cosa? aspetta conosciamoci prima ah chi ha aggiornata giocherella rallegra spiuttegola no no che fa dove va? ma scusami eh dove sta andando? no perché? ma non ci credo ma se ne va già ma no aspetta no non posso più cliccarlo aspetta perché? perché? un momento un momento vediamo se posso invitarlo ah no sapete cosa? accidenti non ci ho pensato perché anche lui è adolescente sta andando a scuola è a scuola accidenti non ci avevo pensato eh vediamo tipo se io faccio invito nel lotto attuale sicuramente mi dirà che è a scuola vediamo è ad affare accidenti ho beccato proprio il momento peggiore è a scuola no non posso mandarla a scuola anche lei a questo punto no non posso no che peccato e niente dobbiamo solo aspettare che tornino vediamo alle 15 finisce la scuola vabbè dai comunque si sono già conosciuti e questo è un buon segno adesso la prossima volta appena finisce la scuola basta che lo chiamiamo al telefono e possiamo già incontrarlo senza doverlo cercare in giro quindi a questo punto forse è anche inutile andare da Riccardo adesso per cercare la sua futura fidanzata perché sicuramente anche lei è a scuola che fra l'altro non so se ve l'ho già detto questi due fidanzatini sono fratello e sorella eccoci qua e allora che facciamo non so curiamo il giardino abbiamo chiesto un giorno di vacanza dalla scuola e quindi approfittiamo ne curiamo un po' il giardino magari sai cosa potresti estirparare le erbacce allora lei è andata a lavoro no ci sta andando forse no no alle 10 va a lavoro no no non sta andando ok e ah deve essere concentrata aspetta sai cosa vieni qua e vediamo cosa puoi fare per diventare concentrata altra scelta internet indaga ah si giusto perché lei è un agente segreto e potresti non so indaghiamo su qualcuno una persona a caso non so se diventa concentrata così lui è diventato concentrato e potresti andare a fare jogging vediamo se per caso lei diventa concentrata si esatto benissimo qui come va ah è andata a lavoro benissimo facciamo curi dei rischi com'era aumenta il rendimento possibilità di diventare fiducioso o triste ma si dai visto che aumenta il rendimento ma secondo me la promozione l'abbiamo anche già ricevuta eh forse ci siamo forse ci siamo che cosa sono queste cose patate che cos'è ah si patate non mi ricordavo di averle piantate uh bellissime stanno crescendo cioè stanno crescendo sono già mature eh però dobbiamo curare meglio il giardino più che altro il problema è che è troppo grande per una persona sola l'alessia non ce la fa ma per fortuna presto arriverà il fidanzatino dobbiamo aspettare le tre però lui non ha niente da fare ma vai a fare giochi ancora vediamo fertilizza no ho sbagliato innesta vorrei anche iniziare un po' a imparare a fare gli innesti perché facendo gli innesti tra vari tipi di piante si ottengono altre piante ancora però sinceramente non so quali siano le combinazioni proveremo insomma a scoprirle facendo dei tentativi e basta però estipare le piante anche perché sono quasi le tre quindi sai cosa usa e poi magari guarda il canale comico così ti diverti e poi chiamiamo il futuro fidanzato ok sono le tre tre e mezza ormai quindi dove eccolo qua non si può tipo invitare al parco invita 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 scusate ma se io tipo faccio chiedi un appuntamento come funziona no non me lo fa perché allora intanto spegni la tv no non me lo fa e niente allora invitiamolo qua uh arriva 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 ok lui è qua magari sai cosa non puoi andarti a fare un giro no casomè andiamo via noi allora tu vai a fare un po' di palestra aspettiamo che arrivi eccolo no è triste perché cosa è successo invita ad entrare perché è triste complimentati dai magari si rallegra però io volevo andare al parco non volevo stare in casa viaggia con andiamo eccoci qua allora iniziamo a socializzare questa volta non te ne andare per favore altra scelta amichevole mi sembra triste poverino chi della carriera non penso abbia una carriera altre scelte discuti degli interessi è triste ok anche lui è al liceo perché è triste rallegra proviamo a rallegrarlo giocherella forse altra scelta amichevole oh è felice adesso bene oh salve veronica fermi fermi perché state litigando no non sono litigando no no ridono benissimo non so chi della sua giornata conversazione profonda non vorrei iniziare subito con le interazioni romantiche scatta una foto insieme altre scelte abbraccia magari buffo guarda un filmato buffo no lei è tornata ma non ha avuto la promozione aveva completato la barra perché non ha avuto la promozione non è che magari siamo già arrivati al massimo no è al livello 5 strano amichevole condividi un segreto esprimi ammirazione impara a conoscere ah si ecco alessi ha scoperto che cod ha il tratto folle infatti mi avete chiesto di creare dei sim che abbiano dei tratti un po' negativi quindi per lui ho scelto il tratto folle spetticola ok dai io direi che con l'amicizia abbiamo dove sta andando no dove sta andando ah perché è tardi ok grazie comunque noi possiamo tornare a casa allora sono diventati amici giusto si amicizia benissimo possiamo tornare a casa allora infatti non volevo iniziare già subito le interazioni romantiche perché le vorrei fare nel prossimo episodio in un modo un po' particolare eccoci allora sapete cosa io farei così adesso ah lei ha fame però allora mangiamo qualcosa e poi puoi andare a dormire voi state bene lui sta benissimo lei sta benissimo non so guardatevi la tv insieme ok dicevo magari adesso andiamo da Riccardo vabbè che è tardi però vorrei che anche lui conoscesse la sua futura fidanzata quindi andiamo eccoci qua lui deve andare a lavoro vai subito è anche in ritardo lei invece forse si è già tornata sta benissimo però visto che si sta facendo tardi magari potete anche andare a dormire quindi dormi e dormi non mi sembra il caso di andare adesso a trovare la futura fidanzatina perché comunque mi sa che sta dormendo però dovremmo aspettare le tre perché anche lei andrà a scuola e quindi dovremmo aspettare le tre va bene non so fai una doccia calda e sensuale devo mettere le luci automatiche aspetta no perfetto adesso che sei flirtante potresti cucinare qualcosa di particolare mi ricordo che c'erano tipo dei dolcetti altre scelte eccoli qua i biscotti acquari del flirt uh anche questo è da ripulire uh lui è tornato a sonno oh eccoli qua prendi una porzione vediamo ah no non ha compilato i rapporti e allora compiliamo i rapporti alle nove va al lavoro lui invece va a lavorare alla sera e lui ottimo ha fatto i compiti mi sa che non ha neanche fatto i compiti dove sono ah eccoli qua fai i compiti assolutamente anche perché non è che stiamo andando benissimo a scuola visto che ha fame magari quando hai finito mangia ti i biscotti come sta andando deve andare anche in bagno uh bene ha finito di fare i compiti allora li mettiamo nell'inventario ha bisogno di socialità socializza un po' con lui ma dove sta andando ah deve andare in bagno eh vabbè fra un'ora fra mezz'ora va anche a scuola quindi è inutile magari socializziamo con lui appena si sveglia usa prendi una porzione può andare a scuola ecco esatto sta andando a scuola magari lavoriamo sodo cioè più che altro studiamo sodo l'allegra e va al lavoro anche lei lavora sodo e siamo rimasti con lui quindi ripulisci e non so andiamo a pescare è da tanto che non andiamo a pescare visto che comunque dobbiamo aspettare le tre allora potremmo andare a pescare a dosi springs non ci siamo mai andati la a pescare quindi cambiamo quartiere qua mi sembra che ci sia una bella zona di mare si dai andiamo qua no ci sono le bollette da pagare accidenti e vabbè quando torniamo a casa che bella zona allora si può pescare qui oppure qui o anche qui mi ispira di più questo punto esamina l'acqua forse dovrebbe riprovare più tardi no io voglio pescare qui ormai dovrebbe avere anche un'abilità molto alta di pesca pesca 9 esatto cosa ha preso no non ho neanche letto aspetta ha preso il pesce persico non c'è nulla di particolare un pesce angelo bene wow questo è nuovo pesce combattente questo pesce non l'avevamo mai preso bene vediamo se c'è qualche altro pesce particolare un pesce angelo qualcos'altro qualcos'altro wow che cos'è un barracuda no uno storione va bene wow mille simoleon costa caspita questo lo vendiamo assolutamente dov'è quello qua no questa è una trota dov'è ah qua storione freschezza eccellente raro questo lo vendiamo che ore sono sono quasi le due lui non è ancora tornato a casa venia wow cosa abbiamo preso una capsula ah abbiamo pescato una rosa va bene magari aspettiamo le due e mezza poi torniamo a casa un esemplare di tilapia interessante altro pesce nuovo ok sono le due e mezza possiamo andare a casa eccoci qua ah è tornato anche Riccardo benissimo allora aspetta di cosa hai bisogno ah sta già mangiando allora apri prendi anche te una porzione sei un po' teso però lo sai cosa guardiamo la tv e poi direi di andare direttamente a casa della futura fidanzata perché secondo me è inutile andare al parco sta lì ad aspettarla andiamo direttamente a casa sua così risparmiamo un po' di tempo guarda il canale attuale dove è andato oh cacciatore di teste un concorrente ha contattato Veronica per tentare di ingaggiarla e sottrarla alla sua azienda attuale lei deve restarle fedele o dare spazio a sogni e ambizioni io resterei fedele la fedeltà può essere un vantaggio il capo di Veronica viene a conoscenza dell'offerta e dà a Veronica una piccola gratifica di denaro come incentivo extra per rimanere benissimo abbiamo guadagnato mille simoleon tanto guardiamo il canale comico ok dai ci siamo tu potresti mangiare nel frattempo e guardarti la tv invece con Riccardo andiamo a casa della futura fidanzata che vive qui proviamo a bussare bussa la porta mi sembra di vederla si è con il fratello eccola oddio però è in mutande dai si vede che si è appena alzata ma no scusami ma sei mutande vabbè comunque lei è Zea anche lei ha un nome molto particolare scusami ma ma posso partecipare anch'io alla conversazione oh grazie aspetta non ignorarmi perché lo ignora poverino non so chi la carriera certo che il primo incontro lei si presenta in mutande vabbè altre scelte chiede chiede la sua giornata spettigola vediamo impara a conoscere ecco invece il suo tratto diciamo negativo è schifiltosa praticamente le fa schifo tutto e poi vabbè è un genio vediamo se si può imparare qualcos'altro altre scelte tre scelte sì mi sembra che stiano andando d'accordo comunque vorrei arrivare almeno a metà della barra allegra complimento parliamo un po' di tutto dove va dove è andata qualcos'altro fai un'imitazione esprimi ammirazione uh è stanco lui accidenti allegra ok sta comunque sta socializzando con entrambi bene siamo arrivati più o meno a metà ok perfetto chi della sua giornata come lo metti per l'abito direi che ci siamo ok possiamo tornare a casa grazie mille per l'ospitalità quindi abbiamo conosciuto i futuri videnzati sia di alessia sia di riccardo però per il momento siamo solo amici adesso la cosa che ci manca da fare è il passo successivo quindi dobbiamo iniziare a far avere delle relazioni romantiche a alessia e riccardo con i loro futuri fidanzati quindi avevo pensato nel prossimo episodio di fare andare tutti e quattro in vacanza di fare quindi una gita in campeggio in modo che possono stare loro quattro da soli e iniziare appunto a conoscersi meglio e a sviluppare le loro relazioni romantiche quindi nel prossimo episodio andremo in campeggio con alessia riccardo zea e cod quindi direi che possiamo fermarci qua lasciate un piaccio commento se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti